Partiamo con un momento molto atteso, abbiamo sempre dei picchi quando arriva lui, l'esimio esperto, Marco Sofientini che ci intratterrà, Marco Sofientini è avvocato, esperto di privacy e diritto delle nuove tecnologie. Il tema di questa lezione è la videosorveglianza vista alla luce delle recenti FAQ del Carante, arricchita con tutte le novità e le casistiche. Allora, l'idea qual è stata? È stata quella di fare un escursus praticamente sulla videosorveglianza, diciamo una certa altezza senza entrare troppo nei dettagli, sulla disciplina. Vista alla luce delle recenti domande pubblicate dall'autorità Garante sul suo sito internet, perché ci consentono di capire che ancora si applica il provvedimento 8 aprile 2010, ma con una serie di modifiche e queste modifiche sono proprio ricollegate, lo dicevo per chi ha seguito l'intervento poco fa, a delle linee guida europee dell'European Data Protection Board numero 3 2019 che hanno dato a livello proprio europeo delle linee guida generali da seguire da parte di tutte le autorità di controllo. Dunque, vediamo quali sono gli aspetti individuati. Io ho suddiviso, diciamo, le FAQ dell'autorità Garante in vari temi. Ho anche riproposto, così diventa anche più agevole alcuni screenshot proprio delle linee guida, per già farvi capire qual è l'approccio dell'autorità. Sostanzialmente, lo vedrete, pone delle domande che molte volte sono le stesse domande che operatori sul campo si pongono per risolvere alcune questioni. Iniziamo un pochino questa carellata di vari temi affrontati. Quali sono, diciamo, le normative, le regole da affrontare? Il autorità garante, lo vedete nella risposta, si rifà e rinvia anche alle recenti linee guida numero 3 2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video da parte del Comitato Europeo per la protezione dei dati. Sappiamo che comunque le linee guida non sono chiaramente una normativa direttamente applicabile, sono, diciamo, linee che si chiamano cose di soft law, cioè rappresentano degli orientamenti ai quali senza ombra di dubbio l'autorità si rifà. Ma chiaramente, oltre al regolamento europeo, esistono poi tutta una serie di normative particolari e quindi ho riportate alcune in tema di videosorveglianza, ne cito uno sulla quale torneremo tra breve, che è il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Sappiamo bene tutti che chiaramente un impianto di videosorveglianza in un ambiente di lavoro deve anche tenere in conto della disciplina prevista dall'articolo 4 della legge numero 300 di 1970 così come riformata col famoso Jobs Act. Nel, ovviamente, predisporre un sistema di videosorveglianza, dovrò ovviamente rispettare i principi base della disciplina e quindi farmo stare anche molto attento a rispettare in tema di videosorveglianza un principio che è quello di minimizzazione dei dati, facilmente, diciamo, violabile perché comunque potrei configurare il mio sistema di memorizzazione di VR e VR in maniera tale da avere un trattamento eccedente e che quindi non rispetta la disciplina o legale o quella legata ai principi privacy. Lo dicevo poco fa, l'autorità garante ha aggiornato e ha scritto queste domande e risposte basandosi proprio su queste linee guida europee che sono state emanate soprattutto per un motivo perché vogliono e cercano di arginare o di disciplinare l'utilizzo della videoanalisi intelligente e quindi dettano una serie di regole agli operatori, a chi sviluppa software ma anche proprio ai titolari del trattamento e quindi ci danno una serie di indicazioni proprio diciamo linee guida alle quali orientarsi nell'applicare in maniera corretta il GDPR. Come sono strutturate? È importante perché qui si possono trovare delle risposte vi dico solo che nell'introduzione si spiega qual è la mission di queste linee guida e quindi come dicevo quello di aiutare il DPO aiutare il consulente, il titolare del trattamento stesso a fare in modo che l'impianto di videosorveglianza che vai a installare rispetti i diritti e la libertà fondamentale o la dignità della persona. Affronta il tema anche della comunicazione dei filmati a terzi quante volte con un impianto di videosorveglianza abbiamo il tema del ma ha scritto la compagnia assicurativa e gli posso inviare le immagini oppure mi ha scritto tizio che gli hanno rovinato l'automobile nel parcheggio del centro commerciale e gli possiamo dare le immagini oppure le possiamo far vedere. Le linee guida dei Garanti Europei numero 3 2019 sono una fonte inesoribile di spunti e di indicazioni operative. Perché? Perché ad esempio ci dicono come comportarci quando dobbiamo comunicare i filmati a terzi capita nella videosorveglianza molto spesso di ricevere richieste di terzi compagnie assicurative, avvocati o altri soggetti in cui chiedono di avere copie delle immagini per N determinati motivi sinistri, tutela dei propri assistiti e via discorrendo. Sebbene sono temi che già conosciamo come affrontare qui vediamo a livello europeo come vengono date delle indicazioni dove sostanzialmente si dice già quello che conosciamo che non possiamo all'infuori dell'autorità giudiziaria comunicare dei dati e quindi dei filmati quando ovviamente in questi filmati possono essere ripresi anche terzi, altri soggetti oppure anche altri numeri di targhi di autoveicoli dato che sono comunque dati personali. Abbiamo altri aspetti importanti vedete il periodo di conservazione e l'obbligo di cancellazione dei dati cioè quel tema che accennavo poco fa che si collega sostanzialmente alla principio di minimizzazione ai tempi di conservazione dei dati alla configurazione dei DWR e dell'INWR e conseguentemente ha un dovere a termine di quella conservazione di una cancellazione diciamo automatica dei dati e poi c'è un tema sulle misure di sicurezza questo è molto importante perché qui per la prima volta aiutano a costruire un sistema di video sorveglianza by design e by default sostanzialmente quello che le famose linee guida sulla by design e by default spiegano a livello diciamo generico generale qui nello specifico ci dicono quali sono gli elementi che devo tenere in considerazione e sono anche corredate queste linee guida da delle checklist molto operative che io posso sostanzialmente utilizzare per condurre diciamo un audit o un audit come preferite per verificare la compliance dell'impianto poi ovviamente le facche del garante si occupano anche di questioni come dire apparentemente semplici ma che molte volte sono oggetto di domande cioè mi deve autorizzare l'autorità garante a mettere l'impianto di video sorveglianza no assolutamente no l'autorità garante non ha nessun potere di autorizzazione tra l'altro oggi non c'è più nemmeno la verifica preliminare che avevamo in passato con il vecchio articolo 17 del codice prima domanda parliamo di rifiuti allora un privato può appuntare le sue telecamere sui cassonetti dell'immodizia adiacenti alla propria abitazione Marco attiva la camera mi raccomando per poi passare le immagini alla polizia locale insomma per beccare chi sporca la sua area dice questo lettore qui assolutamente no viene anche ribadito in una delle fac dell'autorità garante c'è proprio un aspetto di questo aspetto questa è un'attività di appannaggio della polizia locale insomma delle forze di polizia quindi devono essere loro a effettuare questo trattamento di dati personali quindi il privato non può diciamo farsi come dire giustizia da sé deve informare l'autorità e l'autorità poi chiaramente potrà predisporre gli strumenti o le fototrappole ecco in un caso in cui potrà decidere di utilizzare le fototrappole che stavo dicendo poco fa seconda domanda collegandomi stesso intervento precedente quindi quello di prima vorrei chiederle se chi acquista sistemi con riconoscimento facciale scusa ad algoritmi di face recognition quindi face recognition si è tenuto ad effettuare una valutazione di impatto privacy oppure no sì lo impongono e lo richiedono proprio le ultime linee guida dicevo del comitato della convenzione 108 ed è necessario condurre una valutazione di impatto privacy completa quindi ragazzi queste sono le ultime del febbraio 2021 proprio le ultime diciamo che sono uscite poi arrivata fresca fresca le aziende che avevano già esposto le loro informative breve con i giusti riferimenti al DGPR non devono cambiarle vero esortativo allora lo udiamo o no qual è la logica di tutto questo non è che se io ho dei vecchi cartelli ora vengono e mi stanzionano è chiaro che come tutte le normative in evoluzione quando inizierò ad aggiornare dovrò provvedere a utilizzare le nuove la nuova modulistica cartellonistica insomma finora non abbiamo indicazione dell'autorità garante del tipo ora vengo e sanziono chi ha i vecchi cartelli chiaramente se faccio oggi un impianto nuovo sarà opportuno utilizzare quello stesso standard quindi e poi vabbè questa domanda praticamente hai già risposto cioè oggi quale cartello si deve utilizzare più o meno sì perché è quello pubblicato dall'autorità garante quindi quello che abbiamo visto poco fa che poi è una versione semplificata di quello che propongono e suggeriscono i garanti europei nelle linee guida numero 3 2019 e come avete visto ha qualche elemento in più rispetto al solito da cui era scaturita penso la domanda precedente beh mi sembra che hai parlato di garanti europei questo deve essere un avvocato un DPO che lo scrive le linee guida dei garanti europei hanno forza di legge? no si definiscono atti cosiddetti di soft law cioè che cosa vuol dire vuol dire che sono sostanzialmente degli atti che rappresentano delle linee guida proprio delle indicazioni degli orientamenti ai quali per un principio di leale collaborazione tutte le autorità di controllo ovviamente applicheranno e alle quali si rifaranno e lo dimostra proprio quello che abbiamo appena visto perché il nostro garante ha aggiornato alcuni aspetti del provvedimento 8 aprile 2010 proprio alla luce delle delle indicazioni delle linee guida dei garanti europei perfetto quindi e dunque è arrivata questa non so se ho capito bene quindi vedi se tu la capisci bene se no chiediamo di esplicitarla la mia auto registra in continuo a 360 gradi quello che avviene durante il viaggio ma nel maraugurato caso di un incidente stradale quale modalità devono essere seguite per comunicare il filmato dell'accaduto cioè presumo a scopi assicurativi allora le immagini che delle dashcam sostanzialmente quindi delle telecamere montate sulla parabrezza possono essere utilizzati in Italia come a supporto diciamo di un'azione legale se serve e quindi possono essere valutati come elementi di prova da parte dell'autorità giudiziaria questo è l'unico utilizzo consentito quindi qualora la compagnia assicurativa non diciamo non si arriva ad una soluzione stragiudiziale della vicenda quelle immagini potranno entrare in un procedimento civile quello che questo non si devono ovviamente pubblicare quelle fotografie soprattutto quando riprendono anche altri soggetti e questo è facile ovviamente quando si va in giro e nemmeno comunicarle ad amici o ad altri soggetti quindi è un trattamento di dati per finalità esclusivamente personale il cui utilizzo può essere e consentito nel nostro paese per motivi di giustizia quindi per ottenere diciamo avere una prova un argomento di prova da sottoporre all'attenzione dell'autorità giudiziaria e questa è una domanda più nostra sono passati dieci anni qual è adesso a distanza di dieci anni il valore del provvedimento generale in materia di videosorveglianza quello dell'8 aprile del 2010 cioè che giudizio si può dare a distanza beh tutti noi ci aspettiamo che l'autorità garante lo ritocchi per benino perché chiaramente è un po' invecchiato eh sì sia per la tecnologia per dire anche la stessa tecnologia quindi diciamo che oggi lo applichiamo con tanti se e tanti ma naturalmente legati proprio a tutto quello che c'è stato uno per tutti è la verifica preliminare che non c'è più prima noi per mettere in piedi un impianto intelligente dovevamo comunque presentare un'istanza di verifica preliminare per allungare i tempi di conservazione oltre i sette giorni bisognava presentare un'istanza per utilizzare sistemi apposta associati a dati biometrici dovevo presentare un'istanza ora la verifica preliminare non c'è più la logica del GDPR in termini di accountability è completamente diversa di responsabilizzazione c'è un istituto estremamente tecnico che è la Data Protection Impact Assessment che non è facile diciamo deve essere applicato da chi lo sa applicare bene però è uno strumento fondamentale per riuscire a dimostrare di aver messo in piedi misure tecniche e organizzative adeguate e quindi diciamo che ipotizzo un data bridge quindi una brutta cosa io posso dimostrare in maniera oggettiva ma quando dico oggettiva vuol dire io il mio modello organizzativo quello che faccio è tutto motivato la valutazione di impatto privacy alla fine è un bel documentone un bel pdf che io firmo digitalmente e lo marco temporalmente e lo tengo aggiornato nel tempo se mai un domani sono vittima di un data bridge e devo fare una comunicazione una notifica al garante c'è un punto in quella notifica in cui mi si chiede ma cosa avevi fatto come l'avevi costruita la sicurezza e beh io li potrò dimostrare di aver operato con professionalità sicuramente è successo qualcosa però ti porto un qualcosa per dimostrarti la mia professionalità e il mio buon operare